Buonasera a tutti amici dei fuoricampo, oggi siamo qui per parlare di Palermo Cremonese, terminata 3 a 2 per i rosa nero prima di tutto io però vi invito come al solito a mettere mi piace, a commentare e a condividere questo video fateci girare, siamo i fuoricampo, avete tantissimi partite e commenti di campionato di serie B avete il agorà, noi cerchiamo di trattare il calcio che nessuno racconta perché nessuno racconta? Perché pochissimo è l'interesse sopra questo campionato quindi chi vuole interessarsi e chi è interessato a seguire le squadre come Palermo, Venezia, Udinese il calcio tra virgolette provinciale che pochi seguono, metta il mi piace, condivida e commenti questo video e tutti gli altri dei fuoricampo, ragazzi è importantissimo per farci girare allora innanzitutto buone feste, buone feste, sono in ritardo per Natale ma ancora in anticipo per tutte le altre quindi ve le faccio adesso, buone feste a tutti, a chi ci guarda, a chi non ci ha mai guardato e lo sta facendo per la prima volta a chi ci guarderà in futuro allora Palermo, Cremonese terminata 3-2, mi prendo sicuramente il risultato mi prendo come si è aggiustata la classifica, un po' meno la prestazione e poi vado a spiegare perché un Palermo sistemato con un 4-3-3, Piacelli in porta, Graves, Nedelcerau e Ceccaroni, Hansen in difesa il centrale, ricordiamo, il primo, Nedelcerau, sicuramente sbaglio la pronuncia come al solito oggi in campo perché mancano sia Lucioni che Marconi non ho commentato Palermo-Gomo, la cavolata di Marconi ci costa o vi costa, a seconda se volete includermi o meno nei tifosi rosa nero ci costa 2 punti, oggi fondamentali per questa classifica i 2 punti persi col Parma all'ultimo minuto ancora di più oggi è una classifica che grida vendetta alla luce di questi 4 punti completamente persi per disattenzioni o cavolate dei giocatori rosa nero ma andiamo avanti in centrocampo Anderson Gomez e Segre ancora una volta decisivo quest'ultimo e poi di Francesco Bruno Rinsigne in attacco la Gremonesi a mio avviso la pretendente principale per la promozione diretta insieme a questo punto al Come a Venezia si schiera con un 3-5-2 con Giugdal in porta e mancava Sar per infortunio, Bianchetti, Ravanelli e Anto a ben difesa Sernicola, Meyer, Castagnetti e Collocolo con Ghiglione laterale destro e poi Cote e Basquets là davanti allora ragazzi il Palermo inizia subito nel peggiore remodio andando sotto grazie al gol di Ghiglione la disattenzione difensiva è importante, stessa cosa che avviene sul gol di Castagnetti diciamo che le disattenzioni difensive stanno diventando un po' un marchio di fabbrica di questo campionato sono tantissimi gol che avvengono per errori difensivi, per errori di portieri, per uscite basse, cavoli vari oggi per esempio il Venezia prende un gol abbastanza imbarazzante con Zampano che prova a difendere la palla e gliela rubano dentro l'area di rigore Palermo distratto, in difesa distratto, non si può sempre pensare di fare 3 gol per fare punti è un Palermo che in realtà li sta facendo anche 3 gol a partita e sta muovendo la sua classifica però anche oggi ti ritrovi sotto da subito per una disattenzione di marcatura abbastanza importante quindi questo è sicuramente qualcosa da registrare perché questa è una squadra che non può subire una media di 2 gol a partita nelle ultime giornate questa è una squadra che secondo me ha valori anche in difesa ma 23 gol subiti su 19 partite sono veramente tanti sono tanti, sono tantissimi se si vanno a paragonare con i 17 del Parma e i 16 della Gremonese i 20 del Cittadella, il 21 e il 20 del Venezia e Como ragazzi stiamo veramente parlando della... cioè la posizione in classifica indica anche la tenuta difensiva di questa squadra che è seconda in attacco invece solo al Parma quindi se il Palermo riesce ad aggiustare una fase difensiva che ripeto negli uomini secondo me non è inferiore a nessuno di questa serie B allora è un Palermo che può veramente lanciarsi a testa alta verso la promozione scappa al Parma, 41 punti, poi abbiamo il Venezia e il Como a 35 poi il Cittadella a 33 e a 32 a Paiate, Gremonese e Palermo con il Catanzaro a 30, il Modena a 28 chiudono i playoff allora ragazzi Palermo che ripeto con quei 4 punti persi con Parma e Como oggi sarebbe secondo in classifica in solitaria 5 punti dal Parma e comunque secondo me sono tanti visto il valore di questa squadra molto meno se oggi li vado a vedere con questi 32 che vi danno vendetta perché secondo me il Palermo non è inferiore né alla Gremonese né al Cittadella né al Como né al Venezia anzi come squadra la ritengo superiore a tutte e 4 punti persi con la bassa classifica sono tantissimi però oggi ripeto mi prendo il buono una delle migliori squadre su palle inattive una delle migliori squadre anzi non solo di questa serie B ma in generale dei campionati delle top 5 europee Zon lo dice 800 volte questa cosa questo dato a segnare di testa il primo gol avviene infatti con Cerau che stacca in mezzo all'area di rigore e batte il portiere della Gremonese secondo gol è molto bravo di Francesco a rientrare e a battere sul primo palo lo stesso portiere il terzo è un cross di Stulac che va in porta Stulac ormai sta diventato importantissimo ma lo è sempre stato per questa squadra grazie ai gol nell'ultimo minuto una partita anche più o meno equilibrata che secondo me il Palermo ha interpretato bene perché prima del gol lo so che al settimo minuto così faccio un po' il Pioli che per i primi 4 minuti il Palermo ha giocato bene però prima del gol del vantaggio della Gremonese era un Palermo molto alto che aggrediva alto e aveva messo secondo me in difficoltà il palleggio della Gremonese il gol della Gremonese avviene veramente per una prima disattenzione ma una disattenzione importante perché si lascia completamente libero di tirare in mezzo all'area di rigore il Ghiglione con la fascia sinistra del Palermo in questo caso Hansen che lascia completamente solo il libro di tirare il giocatore della Gremonese l'Und ti ritrovi sotto la continui a giocare la continui a giocare alla grande pareggi grazie al colpo di testa di Nedel Cerau e poi arriva sotto un'altra volta con il gol di Castagnetti qui forse secondo me Piaceli poteva fare qualcosina in più il secondo tempo lo giochi molto bene secondo me il Palermo all'interno di tutto ha meritato anche la vittoria probabilmente il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma se una delle due squadre ai punti doveva arrivare al bottino pieno probabilmente il Palermo è la squadra che ha meritato un po' di più secondo tempo sono saltati un po' gli schemi soprattutto gli ultimi minuti tanti attacchi contro difese con le squadre completamente spaccate ci salva il fatto probabilmente che sia Fena che gli altri giocatori della Gremonese in quel momento non avessero l'esperienza giusta per andare a colpirci perché c'è un'azione con Fena che praticamente è davanti a Piaceli rientra per poi andare a servire un compagno in corsa lì probabilmente un altro giocatore avrebbe puntato la porta e chissà come sarebbe andata comunque ripeto ragazzi mi prendo il buono mi prendo la prestazione che secondo me a livello di carattere c'è stata molto meno l'impostazione tattica soprattutto in fase difensiva che ha lasciato tanto 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 margine alle squadre avversarie questo è un Palermo che ripeto sta subendo ormai più di due gol a partita dall'ultima partita in cui ne prendi solo uno ecco la Ternana pareggio 1-1 con la Ternana poi due gol dal Catanzaro tre dal Parma due dal Pisa tre dal Come due dalla Gremonese praticamente fa i punti solo facendo tre gol così è difficile ragazzi nel calcio io capisco che nel calcio moderno si è improntati a fare un gol più dell'avversario ma nel calcio chi prende due gol a partita raramente poi ottiene punteggi o risultati sportivi importanti questa è una cosa che va a cambiare adesso c'è la sosta una sosta in cui puoi ricaricare le batterie puoi ricomporre la coppia difensiva Ceccaroni-Lucioni che tanto hanno fatto bene finché erano stati insieme e poi devi ritrovare un po' di brillantezza perché oggi Brunoli l'ho visto un po' scarico molto bene invece di Francesco è entrato è entrato bene e mi è piaciuto un attimo mi vado a rivedere i cambi perché adesso non mi viene il meglio è entrato bene e mi è piaciuto anche per l'abnegazione eccolo mi ero scontato il nome scusate di Mariano che in fase di copertura nel finale faceva praticamente tutto il campo e vabbè poi Stulac la 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 va la va a decidere con con quel calcio di punizione finale che scusate all'inizio video avevo detto segre ma in realtà è Stulac sono due che spesso si alternano per decidere le partite Stulac la va a decidere con quel cross finale che va a insaccare la porta del partito della cremonese io vi ringrazio vi auguro un felice anno nuovo se riusciamo a incontrarci su Agoralo faremo probabilmente nei prossimi giorni altrimenti buon anno ragazzi ci si vede nel 2024 sempre con i rosa e nero sempre con i fuoricampo pollicione commento e condivisione ciao a tutti ragazzi alla prossima